Genserico, il re dei vandali che sfidò l'impero romano. Dalle rive del Balaton al trono d'Africa, nato nel 389 dici sulle rive del lago Balaton, Genserico crebbe in un'epoca turbolenta per l'impero romano. Figlio illegittimo del reggo di Giselle, egli ascesse al trono dei vandali e degli alani nel 428 dici, in un momento in cui il suo popolo era in cerca di una nuova terra da conquistare. Guidato da un'ambizione sfrenata e da un'abilità strategica senza pari, Genserico condusse i vandali in un'epica migrazione che li portò dalla penisola iberica all'Africa settentrionale. La conquista del Nord Africa, nel 429 dici, Genserico sbarcò in Africa con il suo popolo, approfittando della debolezza dell'impero romano. Sfruttando tattiche di guerriglia e la sua abilità navale, egli conquistò rapidamente la ricca provincia romana, stabilendo la sua capitale a Cartagine. La conquista del Nord Africa fu un evento di grande portata che indeboli considerevolmente l'impero romano e privò Roma di una delle sue province più importanti. Un regno di terrore e splendore, il regno di Genserico in Africa fu caratterizzato da un'alternanza di terrore e splendore. Da un lato, egli si guadagnò la fama di condottiero spietato e saccheggiatore, conducendo incursioni navali contro le coste romane e mediterranee. Il suo sacco di Roma nel 455 dici rimane uno degli eventi più memorabili e controversi della sua storia. Dall'altro lato, Genserico si dimostrò un abile amministratore e un sovrano capace, creando un regno stabile e prospero in Africa. Un nemico temibile e un abile diplomatico, Genserico fu un nemico temibile per l'impero romano. Le sue incursioni navali e la sua abilità militare lo resero una figura incombente sulla scena politica mediterranea. Tuttavia, egli si dimostrò anche un abile diplomatico, capace di stringere alleanze e di sfruttare le divisioni interne all'impero romano a proprio vantaggio. L'eredità di Genserico, Genserico morì nel 477 dici, lasciando un regno forte e prospero in Africa. La sua figura rimane controversa, egli è stato dipinto come un barbaro sanguinario e come un abile condottiero. Indipendentemente dalle diverse interpretazioni, Genserico è stato senza dubbio uno dei personaggi più importanti del V secolo dici, un uomo che ha lasciato un segno indelebile sulla storia dell'impero romano e del Mediterraneo. Oltre la storia, la figura di Genserico ha affascinato storici e letterati per secoli. La sua storia è stata raccontata in innumerevoli opere, tra cui romanzi, poemi e film. La sua ambizione, la sua abilità militare e la sua spietatezza continuano ad ispirare e a turbare l'immaginazione collettiva. Genserico, un personaggio complesso e affascinante, Genserico fu un uomo di grandi contrasti. Era un guerriero spietato e un abile diplomatico, un conquistatore sanguinario e un saggio amministratore. La sua complessità e il suo impatto sulla storia lo rendono un personaggio di grande interesse e di continua, ispirazione per studiosi appassionati di storia.